Al termine della presentazione di Protocollo S, l'ultimo libro di Umberto Saccone, incentrato sul sequestro di persone, ci troviamo con il generale Leonardo Tricarico, presidente di ICSA. Quali le sue impressioni di tutta questa complessità che oggi è stata sviscerata in questo convegno? La mia impressione è un po' fuori tema, però dopo tanti anni di frequentazioni romane, ormai molti lustri, mi sono sempre più convinto che ci sono eventi che sono pura coreografia, altri eventi invece sono dei palcoscenici per dei temi molto importanti come quello di oggi. Non ci sono vertici di governo, vertici politici, ci sono solo esperti, solo gente appartenuta alle istituzioni che mette la sua esperienza a disposizione della collettività, come appunto l'autore di questo libro, e che veramente vanno al cuore dei veri problemi che purtroppo sono trascurati, come quello che riguarda appunto il sequestro di persone e tutte le attività sia di prevenzione e sia soprattutto di interventi post-operatori, se possiamo definirli così. Oggi si è parlato di queste e di altre cose e sicuramente io spero che ci sia una contaminazione attraverso i media di chi poi deve prendere decisioni perché questi temi vengono messi in un'agenda politica di questo paese e vengono affrontati seriamente. Benissimo, allargando invece l'orizzonte a quello che è il security management, quali i messaggi che una fondazione come X può dare? Ma noi ci stiamo occupando della sicurezza in tutte le sue declinazioni, quindi in un quadro molto più vasto, molto più aperto, a 360 gradi e naturalmente per quello che riguarda la sensibilità alla sicurezza abbiamo messo in cantiere numerosi provvedimenti che non sono soltanto quelli dell'approfondimento con la nostra esperienza per dare una visione a chi deve prendere decisioni ma anche dal punto di vista operativo. Stiamo facendo dei corsi per security manager, siamo già alla terza edizione e proprio la tutela della sicurezza dei lavoratori, soprattutto quelli che si recano all'estero, è una fattispecie sempre molto più vasta, molto più frequente, è uno dei temi che noi affrontiamo in questi corsi e vogliamo dare agli addetti alla sicurezza delle aziende grande e piccole gli strumenti per poter affrontare le attività di prevenzione che sono sicuramente fondamentali rispetto al fenomeno. Al termine della presentazione di Protocollo S, l'ultimo libro di Umberto Saccone, incentrato sul sequestro di persone, ci troviamo con il generale Leonardo Tricarico, presidente di ICSA. Quali le sue impressioni di tutta questa complessità che oggi è stata sviscerata in questo convegno? La mia impressione è un po' fuori tema, però dopo tanti anni di frequentazioni romane, ormai molti lustri, mi sono sempre più convinto che ci siano eventi che sono pura coreografia, altri eventi invece sono dei palcoscenici per dei temi molto importanti come quello di oggi. Non ci sono vertici di governo, vertici politici, ci sono solo esperti, solo gente appartenuta alle istituzioni che mette la sua esperienza a disposizione della collettività come appunto l'autore di questo libro e che veramente vanno al cuore dei veri problemi che purtroppo sono trascurati come quello che riguarda appunto il sequestro di persona e tutte le attività sia di prevenzione e sia soprattutto di interventi post operatori se possiamo definirli così. Oggi si è parlato di queste e di altre cose e sicuramente io spero che ci sia una contaminazione attraverso i media di chi poi deve prendere decisioni perché questi temi vengono messi nell'agenda politica di questo paese e vengono affrontati seriamente. Benissimo, allargando invece l'orizzonte a quello che è il security management, quali i messaggi che una fondazione come ICSA può dare? Ma noi ci stiamo occupando della sicurezza in tutte le sue declinazioni, quindi in un quadro molto più vasto, molto più aperto, a 360 gradi e naturalmente per quello che riguarda la sensibilità alla sicurezza abbiamo messo in cantiere numerosi provvedimenti che non sono soltanto quelli dell'approfondimento con la nostra esperienza per dare una visione a chi deve prendere decisioni ma anche dal punto di vista operativo. Stiamo facendo dei corsi per security manager, siamo già alla terza edizione e proprio questo, la tutela della sicurezza dei lavoratori soprattutto quelli che si recano all'estero, una fattispecie sempre molto più vasta, molto più frequente, è uno dei temi che noi affrontiamo in questi corsi e vogliamo dare agli addetti alla sicurezza delle aziende grande e piccole gli strumenti per poter affrontare le attività di prevenzione che sono sicuramente fondamentali rispetto al fenomeno.